Sapete chi è davvero felice? Chi non si mette sempre in prima fila? Dio gli riserva un posto speciale nella sua casa. Felice chi ha toccato il fondo. Dio lo solleverà. Chi è contento? Chi non è prepotente? Dio gli donerà il mondo intero. Vuoi che nel mondo ci sia la giustizia? Beato te, lo vuole anche Dio. Se ridi con chi ride e piangi con chi piange, Dio ride e piange con te. Che bello essere uguali dentro e fuori. Vedi Dio in tutte le cose. Paolo! Prea! Prea! Che c'è tempo che per fare una scena ci stiamo qua. Felice chi diffonde la pace. Dio ha già firmato la sua adozione a distanza. che fortuna quando ti mettono i bastoni fra le ruote perché stai facendo ciò che Dio vuole. ha in tasca il suo regno. Veati voi quando la vita diventa impossibile. e nessuno vi capisce più perché avete preso sul serio il Vangelo. A tutti gli amici di Dio è capitata la stessa cosa. Quindi saldate e urlatevi gioia perché avrete per sempre la vita! e nessuno vi capisce più che di Dio è capitata la stessa cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.